Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Grande fratello 2023, cosa è successo dopo l'eliminazione di Mirko Brunetti? Non ci può ancora credere, eppure è successo davvero. Mirko Brunetti ha perso la sfida al televoto con un 19% di voti, uscendo sconfitto rispetto agli altri concorrenti in gara, ovvero Anita, Sara e Perla. Una puntata densa di colpi di scena che ha visto anche un acceso confronto tra il concorrente eliminato e le due ex, Perla Vatiero e Greta Rossetti. Ma cosa è successo in casa dopo la comunicazione shock su Mirko? Per chi se lo fosse perso, ecco ogni dettaglio sulla reazione delle due concorrenti. Cosa è successo dopo l'eliminazione di Mirko Brunetti? Ebbene sì, il concorrente eliminato dal gioco è stato proprio l'Extemptation Island. Mirko Brunetti ha abbandonato la casa lasciando tutti nello stupore generale. Erano in molti a credere che ad abbandonare il gioco sarebbe stata Anita, lei compresa. Ma proprio dopo l'uscita di scena di Mirko, ecco Perla lanciarsi in una rivelazione bomba. Il tatuaggio dopo due settimane è nulla a confronto ad altre cose. Se te le dicessi adesso tu diresti, ma non è mica normale. Poi ti dirò tutto, adesso bisogna tutelarlo un minimo. Cose sue nei miei confronti. Cose che io farei dopo almeno dieci anni di relazione. Quindi anche quando litigavamo dopo la visione delle puntate, lo vedevo, lui cambiava, parlavamo fino alle cinque del mattino. E io gli dicevo sempre devi tornare con Perla, te lo dice con calma torna da lei, ha messo l'avatiero che ha poi aggiunto anche altri dettagli sulla questione. Se voleva andare a convivere con me, anche cose più pesanti. Se mi voleva sposare, più pesanti, però pesanti nel senso che io gli dicevo di tornare da te e lui diceva cose pesanti per dimostrarmi che voleva me. Andare a convivere ok, voleva farlo subito, ma ha fatto anche cose più pesanti, credimi. Ad oggi se ci penso mi dico che non ero normale ad assecondarlo, ma lui non era normale a dirle. Però in particolare c'è un gesto folle. Bello se vuoi creare qualcosa, ma molto folle. Per dimostrarmi che ero la donna della sua vita. Dopo la rivelazione di Perla, anche Greta ha aggiunto alcune considerazioni in merito. A me qui certe volte mi faceva capire che non si avvicinava a me perché c'eri tu. Quindi mi fai capire che hai un sentimento, ma che per rispetto tuo non faceva nulla. Poi allo stesso tempo io questo suo rispetto non lo vedevo. Si è comportato allo stesso modo con tutte e due e non è stato bello. Quando si avvicinava a me lo faceva di nascosto. Era come se volesse stare con un piede in più scarpe e io non lo concepisco. Qui c'è un problema di base. Lui mi ha fatto capire che si è buttato su te perché non aveva la sicurezza di me. Questo lo giuro su mia madre che è la persona più importante della mia vita. Poi mi giurava che con te era finita e che tu lo sapevi. Poi Mirko la scorsa estate ti descriveva come una fuori di testa. Ti chiedo scusa se non ho pensato cose belle di te, ma lui mi diceva certe cose e io poi gli credevo.